Musica Un incidente mortale avvenuto a Recale nel Casertano, la vittima è Jason Zara, originario di Dugente, in provincia di Benevento, ma conosciuto nella cittadina casertana dove lavorava come giosseraio. Il 23enne è rimasto folgorato da una scossa elettrica, non è chiara l'esatta dinamica della vicenda sulla quale stanno indagando i carabinieri. L'uomo era sposato da soli sette mesi e ora l'intera comunità nel Casertano piange la sua morte. Zara sarebbe arrivato all'ospedale di Marcianise in condizioni già disperate, nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, per lui non c'è stato più nulla da fare. Secondo quanto finora emerso il giovane sarebbe entrato in contatto con la corrente nei pressi di una cabina elettrica, mentre installava assieme al padre una pista di autoscontro, una scossa violentissima. Poco dopo, sul logo dell'incidente, sono arrivati anche i carabinieri e la polizia locale che hanno effettuato i primi rilievi e raccolto le testimonianze dei presenti. Tutto purtroppo lascia credere che si sia trattata di una tragica fatalità, anche se è stato aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS